Vuoi un armadio che sia bello, su misura, ma vuoi spendere come per un mobile di serie? Bene, se stai arredando la tua nuova casa e stai cercando l'armadio giusto, magari un armadio a muro, su misura, abiti entro i 20 km dal mio laboratorio artigiano di Treviglio, ti sto per offrire una possibilità davvero unica. Questo è lo scenario tipo. Stai per ridare l'appartamento che hai acquistato in un palazzo, in una palazzina, oppure magari in ville a schiera di nuove costruzioni. Hai bisogno di inserire un armadio su misura in una nicchia. Non trovi questo armadio nella grande distribuzione, o meglio magari lo trovi, ma è il solito compromesso. Mentre tu vorresti che aderisca perfettamente al muro senza essere costretto a vedere quegli orrendi antestetici spazi che stanno tutto attorno all'armadio. Allora devi necessariamente farlo costruire su misura da un falegnamo artigiano che sia bravo. Quindi sarà certamente un mobile fatto per durare nel tempo, perché avrà materiali con grandi spessori, meccaniche avanzate e poi una volta posato, quando lo guarderai, sarà veramente perfetto. Nel colore che vorrai, in perfetta continuità e armonia col muro. Ma un armadio così costa di più rispetto a un armadio dello stesso tipo, ma costruito in serie. E costerà molto di più rispetto a un armadio industriale economico progettato per costare naturalmente molto poco. Inoltre il prezzo potrebbe anche rivelarsi un'incognita, perché non esistono gli stino prezzi per mobili su misura. Perché altrimenti sarebbero inevitabilmente mobili in serie, che poi al limite ti verranno composti, personalizzati, adattati, ma tramite componenti rigorosamente di serie. Dall'altra parte invece c'è un armadio ben più costoso, che durerà molto a lungo, che se mai si dovesse rompere non avrai difficoltà a trovare ricambi, ma che probabilmente il problema è il punto è questo, non ti puoi permettere. Se stai entrando in un gruppo di appartamenti di nuova costruzione, hai una grande opportunità, cioè quella di creare un gruppo di acquisto con tutti gli altri inquilini che stanno comprando casa proprio come te, e che hanno bisogno di arredare uno spazio esattamente come il tuo. Perché vedi in fondo l'armadio non è come una cucina, difficilmente in un gruppo di case due appartamenti hanno la stessa identica cucina che si sono uguali. L'armadio invece ha di solito meno personalizzazione, la sua struttura di base può essere veramente simile a quella di tutti gli altri armadi, quando tutti vengono collocati nello stesso spazio. Se siete 6 o 12 inquilini, tutti vi fate costruire lo stesso armadio su misura, o comunque un armadio che abbia caratteristiche simili, questo mobile, per chi lo costruisce, sarà una sorta di mini serie. E questo è importantissimo, fa la differenza. Cosa significa? Che per l'artigiano alcuni costi di produzione possono venire ammortizzati, i tempi di produzione sono ottimizzati, probabilmente le materie prime potranno costare un pochino meno. E anche i tempi di trasporto e di posa negli appartamenti potranno venire, se non ridotti, comunque molto ottimizzati, soprattutto nel caso in cui gli armadi venissero consegnati tutti nello stesso momento. A parità di prodotto, di materie prime, che sono quelle di qualità usate dagli artigiani, non quelle economiche, di dialogo diretto con l'azienda costruttrice è importantissimo. Potrei avere un prezzo inferiore, con migliori personalizzazioni, senza il ricarico applicato da rivenditori e intermediari. Questo si traduce per te in un prodotto a chilometro zero, perfettamente prasmato nella tua nicchia o nel tuo spazio, fatto con materiali che puoi verificare e che dura molto lungo e che non ti darà mai il problema dei ricambi. Se vuoi saperne di più, chiamami al numero 0363 40703 e iscriviti al mio canale YouTube e attiva la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Come sempre, cerca Savoldi, il tuo falegname di fiducia e chiamami oggi.